Ciao capo, oggi è sabato, oggi è bella, bella giornata, no? Senti capo, ho visto che ti interessa cosa si fa di Pasqua Ortodossa. La nostra tradizione è così, sabato sera si va tutti a chiesa, no? Con candela qua, là, per il nostro Signore Gesù Cristo. Domani si fanno la griliata, mangiare, tutti i tipi di mangiare tradizionale, eh? Musica, qua, là, divertimento a manetta, no? Poi, io questo anno non voglio fare niente, a preparare, mangiare, a fare la spesa, vai qua, stare in coda a supermercati, a stare sporco in casa, pentoli, consumare, gas, luci, un massaggio. Questo anno vado a trattoria, pago 10 euro, 12 euro, mangio come un reno, sto con i piedi sotto tavolo, voglio stare tranquillo, pulito, c'è tanta roba anche a ristorante, col menù. Prendi carne di maiale, prendi di bovino, prendi di dinozauro, anche di capra, di caprone, di tutti i tipi di carne, no? Poi, pesce, c'è tanto, tanto mangiare, questo anno voglio stare tranquillo, pulito. Hai capito? O ti sembra che parlo la lingua di gentleman. Dai, ciao a tutti amici, buon sabato a tutti. Dai, ciao, ciao, ciao. Ciao.